Buonasera a tutti, è un'emozione vedere tante persone dal vivo, per me che è parte della mia vita, la dedico agli eventi e ritornare a vivere le emozioni dal vivo è una grande cosa, ma oggi non parlerò di eventi, non parlerò di emozioni, ma parlerò di arte e cercherò di delineare quelle che sono le dieci regole dell'identità outside. Questo è un progetto editoriale nato molti anni fa, nato in maniera anonima, io addirittura non firmavo, ho cominciato con le pagine di Wikipedia e poi in realtà si è evoluto sui social, quindi un progetto nato dal basso e poi è diventato una serie di libri che sto pubblicando congiunti, proprio per rivalutare gli artisti dimenticati del Novecento, quelli che non ce l'hanno fatta, quelli che sono stati famosi e poi sono caduti nell'ombra, quelli che la vita ha presa a calci, quelli che hanno avuto mille difficoltà ad affrontare. Questo percorso in qualche modo era però necessario per me da affrontare tornando nel passato, perché si fa sempre i conti col passato e quando ero un bambino avevo una grande passione che era di giocare a calcio, avevo la passione delle figurine parini, avevo la passione di legge, mi piaceva Pinocchio e poi a un certo punto vedi per terra dei biglietti del cinema, qualcuno li aveva gettati e mi sembravano bellissimi, come era possibile gettare via una cosa così bella e quindi di raccolto e cominciai a collezionare le cose gettate per terra, i biglietti del teatro, i biglietti del cinema, fino alle lattine di birra, che è la negazione del collezionismo perché è impossibile finire una collezione fatta di oggetti che non hanno fine, ma soprattutto significa dare valore a qualcosa che gli altri gettano via. E poi una volta mi capitò una fotografia, quelle che gli americani chiamano snapshot, cioè le foto scattate, le foto vecchie, quelle che compri per pochi euro, per pochi centesimi sulle bancarelle. Io adoro vedere questi volti accigliati, questi ritratti di famiglie vecchi con la bombetta, quello che però mi colpisce di queste foto è che se li osservo bene pensano che forse sono tutti morti e che forse solo io possiedo quella fotografia e quindi avere quella fotografia significa in qualche modo mantenerla in vita e quindi mi piace quando mi guardano dritti negli occhi, io cerco di capire che cosa hanno fatto poi, che cosa è successo nelle loro vite. Quindi ho cominciato a pormi delle domande sulle cose che vedevo. Guardate questa foto, questa foto l'ho trovata su un banco, credo vi l'ha pagata due euro, ed è un uomo e una donna. Io all'inizio pensavo istintivamente che era un uomo e una bambina, quindi immaginavo il padre e la figlia, però lei è strana perché lei ha in mano una fotografia con dei numeri di un calendario e qualcuno mi ha fatto notare che potrebbe sembrare un vestito pre-mamma, quindi potrebbe essere un uomo, e all'epoca forse questa è una foto degli anni 30, con una moglie giovanissima che è incinta e chi è nella foto? È la madre, è la madre che è lontana, qual è il segreto dietro a questa foto? Ecco io non ho mai avuto la soluzione a questo enigma, ma ho capito che bisogna incominciare a porsi delle domande e anche andare al di là di ciò che si vede abitualmente. Prendete una grande capolavoro del novecento, una delle icone, secondo me il robot di Betropolis è una delle grandi icone del 1900. Ma se io chiedesse a voi chi ha disegnato il robot Maria, nessuno di ve lo saprebbe, così come non sapevo io, e quindi sono andato a documentarmi, ho scoperto che c'è un personaggio che si chiama Otto Kunte, del production design del film, e così l'abbiamo sempre ignorato, così come abbiamo ignorato quelli che sono gli altri collaboratori che hanno costruito questo immaginario straordinario che per esempio poi ha generato Blade Runner e parte della nostra identità. Eppure sono dei semplici, come diciamo noi, scenografi, non sono gli artisti importanti. E quindi ho capito una cosa fondamentale che è la prima legge dell'identità outsiders. Nella creatività non esiste una differenza fra alto e basso. Dimenticatela, è una cosa che ci hanno imposto. La qualità, quando la vedi, la riconosci subito. Ed è la qualità di un pancake, è la qualità di una ripresa televisiva, è la qualità di un elemento di design. Guardate questo oggetto. Io direi subito un donatello. Io oggi sono andato via clavature a vedere Niccolò dell'Arc, il compianto di Cristo. Se non ci siete andati, andateci perché è uno dei capolavori dell'arte mondiale. Eppure questo non è altro che un manichino utilizzato negli anni 40 negli Stati Uniti per provare la tenuta dei paracaduti. Ma la bellezza di questa opera è pari a quella di una grande opera di qualunque altro artista. Guardate queste immagini. Sulla sinistra c'è Spadolini, che era un danzatore. Il primo danzatore che ha danzato nudo. Era di Ricciona, due a Parigi, ed è stato un grande amore con Edith Piaf. Mentre sulla destra è una foto di Kubrick. Allora, Kubrick è famoso per i film, ma questa foto è straordinaria. Quindi così dire che questa foto è meno importante della foto del cinema di Kubrick, non credo. Così come è importante Rancerox. Rancerox è un oggetto iconico della nostra epoca, così come un oggetto di design. Quello che hanno fatto Behrens nelle fabbriche gay gay, trovando dei nuovi modi di interpretare l'utilità sugli oggetti. O la scultura di uno scrittore che si chiama Hader Wilft, che tanti esperti d'arte conoscono, ma che forse la massa conosce meno e che è uno dei grandi scultori del Novecento. Oppure andare nei musei, vedere le opere meno importanti. Quella di sinistra è un ritratto multiplo di Cesare Sofianopolo, che ho voluto come copertina del secondo libro, Outsider 2, che io trovo straordinario, che in qualche modo già presagisce il volto tetro di The Joker. Al centro vedete il casco fatto da uno dei lavoratori delle piattaforme petrolifere nell'Oceano Pacifico, che passano il tempo e intagliano il proprio casco per fare un oggetto d'arte, di cui è nato un collezionismo. E quella a destra invece sono dei progetti di Chiatone, un architetto straordinario che condivise con Sant'Elia lo studio e poi ha voluto fare una vita diversa, una vita in qualche modo basata sulla borghesia. È andato a fare in Svizzera il benestante. Ho capito quindi che l'arte connesse la vita ed è questa la seconda legge degli Outsiders. L'ho capito anche nelle esperienze che ho avuto con mio padre. Mio padre era un pittore, era un artista, è stato un teorico dell'educazione artistica, ha fatto tante trasmissioni televisive come Non è mai troppo tardi è telescuola. Lui era allievo di Casorati e passò dal figurativo all'astratto e questo era lo studio. Mio padre era figlio di contadini e lui era abituato a pensare che i figli dovessero aiutare il pa, quindi mi prendeva e mi portava a studio e io dovevo passare a sistemare le tele, spostare le sculture da destra a sinistra, da sinistra a destra. Però questa esperienza mi ha permesso di capire che le cose che lui creava avevano dei significati per lui. Cioè l'arte non è disgiunta dalla vita e che forse noi continuiamo a guardare solamente l'aspetto esteriore delle opere, mentre forse dovremmo porci delle domande. E quindi questa esperienza mi ha fatto capire che ogni opera aveva un significato e che forse noi non siamo più abituati a capire perché non ci poniamo più delle domande. E quindi arriviamo alla terza legge dell'identità outsiders. La vita è una variabile impazzita. Prendete il 1900, è stato un secolo spaventoso, ci sono stati 82 conflitti, stiamo parlando di 130 milioni di morti, ci sono state 80 milioni di morti tra genocidi e persecuzioni, un cittadino europeo su tre ha avuto problemi da un punto vista politico, ha subito delle discriminazioni. E poi ci sono state le epidemie, sono stati 50-100 milioni di morti di epidemia per la febbre spagnola. E su questi grandi problemi del 1900 si sono innescati i problemi individuali di ognuno di noi. La condizione femminile, essere donna per un artista è sempre stata una sciagura. Addirittura agli artisti outsider veniva negato il fatto che le donne potessero produrre arte. L'orientamento sessuale, la discriminazione di chi aveva degli interessi sessuali diversi dalla massa, la povertà e la disabilità. E infine l'autodistruzione, cioè la voglia di distruggersi. Guardate, di nuovo via Clavature, che sembra un po' il centro del mondo, fate 100 passi, via Clavature 20 c'era Traum Fabric, che era questo luogo di una casa occupata, dove negli anni 70 Tamburini e Pazienza hanno comunque costruito un immaginario straordinario. Però sono arrivati alla distruzione utilizzando la droga che è stato l'ennesimo flagello della generazione negli anni 70, 80, 90, l'eroina. E poi la droga si è cambiata ed è cambiato anche il tempo. E la quarta legge degli outsider ci dice anche una cosa importante, che gli outsider sono dimenticati. Chi si dimentica è sempre in colpa, come diceva mia zia, chi dimentica non ama. Prendete l'arte degenerata. Voi sapete che Hitler scatenò una guerra contro l'arte moderna, considerandola degenerata, e quindi fece una mostra che ne prendeva in burletta e fece bruciare le opere, perseguito agli artisti. E noi sappiamo i nomi degli artisti, molti di voi li conoscono, Gross, Korint, Paul Klee. Quello che però è interessante è che quando prendi il catalogo di questa mostra, scopri che erano decine, se non centinaia, gli artisti degenerati erano stati individuati. Di questi personaggi, Paul Kassel, nessuno sa niente, di molte di loro non si dà neanche la data di morte. Perché anche tra i diseredati ci sono quelle di serie A e quelle di serie B. E addirittura c'era un personaggio che si chiama Carl Weissig, che era un pittore espressionista, quindi degenerato, comunista e nano. Quindi era degenerato tre volte e quando poi finì la guerra e lui pensava di poter essere aiutato dal governo, scoprì di non essere abbastanza famoso per essere aiutato dal governo. E quindi ebbe una profonda crisi depressiva e poi morì tragicamente. E abbiamo la quinta legge degli outsiders. Gli outsiders sono dei perdenti di talento, sono perdenti di definizione, non scelgono mai i luoghi e le date giuste per nascere, creare, amare e morire. Vivono in mondi paralleli e hanno sempre l'indirizzo sbagliato. Prendete l'arte americana, la grande arte americana, basta leggere i nomi e accorgersi che sono in realtà di derivazione diversa. Mark Rothko viene dalla Lettonia e aveva uno pseudonimo, Mark Rothko. Arshaj Gorki veniva dall'Armedia e la madre è morta di fame, passando in barcone in fuga dal genocidio degli armeni in Grecia. E lo stesso Andy Warhol era di famiglia ucraina, ma loro sarebbero diventati così famosi nel loro paese. E parliamo della stessa legge degli outsiders. Saranno perdenti, ma sono sempre andati contro o verso qualcosa e sono i grandi e dimenticati protagonisti del nostro tempo. Prendete questo quadro, questo è 1910, l'abbiamo studiato tutti. È il primo quadro astratto, un acquarello di Kandinsky. Ebbene, quattro anni prima, questa donna che sembra uscita da un romanzo dell'Ottocento, che si chiamava Hilf Hans Klimt, svedese, alto un metro e cinquanta, piccola, facendo delle sue spiritiche e comincia a costruire dei quadri straordinari, che sono dei quadri astratti. E guardate le dimensioni, fa dei quadri grandissimi, giganteschi, ma nessuno li vede in vita. E quando lei muore lascia detto che nessuno li può vedere per trent'anni dopo la morte, rimangono ancora dentro delle casse. Sono stati praticamente riscoberti negli ultimi vent'anni. E quest'anno il Guggenheim ha fatto una mostra dedicata a Hilf Hans Klimt, che porterà a riscrivere un po' la storia dell'arte. Così come nessuno metterebbe nei dieci quadri più famosi della storia dell'arte il quadrato nero di Malevich, che è un quadro fondamentale dell'arte contemporanea, che lo stesso Malevich volle porre nel proprio letto di morte e morì guardando quel quadro, che era in qualche modo il senso estremo, il punto di partenza dell'arte astratta. Eppure, di nuovo, questo nei libri di storia dell'arte abituali non li leggiamo. E poi sono tanti. Prendete Parigi. Parigi, inizio del Novecento, c'è l'Esposizione Universale ed erano 80.000 gli artisti. C'erano 80.000 gli artisti. Quanto varise? Una città di artisti, ma quanti ne conosciamo? Facendo un'analisi veramente, prendendo i dati da Amazon, a occhio il 90 per cento delle monografie sull'arte del Novecento parla di 59 artisti di dodici nazioni. 59. Su 80.000 che solo in quel periodo vennero a Parigi. E di nuovo, vi dico il segreto della mostra perfetta. La mostra perfetta è da Caravaggio a Modigliani passando per Van Gogh. Ormai noi viviamo su questi elementi di questi titoli e di questi nomi e di nuovo ci dimentichiamo che questi tre personaggi hanno sofferto nella vita. Sapete tutti di Van Gogh e di Modigliani, ma forse non sapete che lo stesso Caravaggio, fino agli anni venti, era dimenticato. È stato uno scrittore italiano e critico, Roberto Longhi, a rilanciare la figura di Caravaggio, che era uno dei mille pittori del Seicento. Quello che noi facciamo è un effetto marmellata. E l'invito che io vi faccio questa sera è di ricominciare a vedere con occhi nuovi il mondo dell'arte e il mondo degli outsiders. Per esempio provando a immaginare format diversi per le mostre, format diversi per le esposizioni museali e allo stesso tempo smettere di fare una cosa terrificante, andare a vedere nei musei le targhette. Prima si guarda la targhetta, poi si guarda l'opera d'arte. Ritornate a usare gli occhi. Fatevi delle domande sulle cose che vedete. Qual è la storia dietro a quel quadro? E guardatevi solo il quadro. Guardatevi solo l'opera che c'è dentro. Potrete scoprire opere straordinarie che nessuno conosce. Rosario De Velasco l'ho trovato in una sala laterale. Kalmakov, un pittore russo, è stato trovato dai collezionisti buttato nel mercato delle pulci perché tutto il suo archivio era stato buttato e venduto per pochi euro. Ci sono scorprese. c'è un calciatore della Juventus che è diventato pittore. La Blanchard, Marie Blanchard, una disabile, una grandissima pittrice cubista, in qualche modo non valorizzata come dovrebbe. E mettere sullo stesso piano cose diverse. La cultura della controcultura di Robert Cranberry o anche il Puccino Elefante. C'è una piccola casa editrice che pubblica libri deliziosi in pochissime copie. E questo ci porta all'ottava legge degli outsiders che hanno storie straordinarie che aspettano solo di essere raccontate. come Philonoff, morto di fame durante l'assedio di Stalingrado perché non voleva vendere un solo quadro, perché voleva lasciare la sua opera a tutti voi e voleva che un museo la prendesse e la conservasse. O al contrario, una donna a Roma, così povera che dopo aver dipinto dei quadri straordinari, lei vestiva da uomo, era un personaggio stravagante, è morta e non si sa la sua data di morte. Il suo corpo è stato buttato nella fossa di pubblica pietà. Ma ci sono anche i ricchi. Tommaso Buzzi, così ricco da guadagnare facendo le ville dei ricchi e poi, con i soldi guadagnati, costruire la Scarzuola, che è uno dei più bei luoghi a Monte Gabbione, una delle città utopiche a cui vi invito di andare a fare una visita in questo autunno. Gerald Murphy, miliardario, che in tre anni solo, dopo aver inventato i bagni di mare a Saint-Tropez, costruisce delle opere straordinarie che presagiscono la pop-arte, di cui anche io non avevo mai sentito parlare, che ho scoperto per caso. Come Arwe Kuga, anche questo ho mai parlato da nessuno, mai raccontato da nessuno in Italia, un monaco giapponese che doveva diventare monaco di un tempio e che scopre l'arte occidentale andando a rubare riviste dentro al porto. Queste storie, vedete, sono diverse, come si come i relatori che si sono ripetuti in questo luogo. C'è un'indiana, c'è una cinese, Pan Yulang, una bambina venduta che ha cominciato a fare la prostituta e che tramite l'arte ha trovato in qualche modo la propria identità. Orge Selaron, che ha costruito la scala a Rio, simbolo di Rio, era un cileno ed è morto su questa scala, forse ucciso da una banda rivale. Taiyat e Rami, i fratelli italiani che hanno inventato la tuta, che sono in qualche modo gli ultimi geni del Rinascimento. La baronessa Elsa von Freydeck-Loringoven, a cui Duchamp rubò l'orinatoio. E Phil Dickett, un genio vissuto in 40 metri quadri per una malattia che si chiama la teseologia di Fallot, che si chiama con le mani a bacchetta, e che rappresenta se stesso in maniera ironica e piena di poesia. E questa è la nona legge degli outsiders. Non sono soltanto quelli che ci sono stati gli outsiders, sono tra noi e si riproducono. E sono accanto a voi. Non dobbiamo aspettare che Van Gogh perde l'orecchio. Riattacchiamo l'orecchio a Van Gogh. E ognuno ha i suoi outsiders. I miei outsiders sono loro. Sono Fausto delle Chiaie, che ogni giorno dietro la Rapacis a Roma mette una mostra dei soggetti concettuali. Mauro Gottardo, che è un giovanissimo autore, calligrafo, che su lunghi fogli di carta, con la Biennabiro, realizza dei passeggi straordinari. E Mario Pischedda. Io addirittura ho dedicato un sito d'amore a Mario Pischedda. Io sono pazzo di Mario Pischedda, che è un fotografo che vive in un piccolo luogo della Gallura e che produce in maniera bulimica su Facebook ogni giorno una galleria d'arte di video performance convinto che l'arte deve essere in qualche modo regalata. Dove sono i vostri? Cercateli. Sono qua, nel palazzo accanto. Forse è via Clavature, che cito per la terza volta. Al terzo piano c'è qualcuno che fa qualcosa. e questo ci introduce anche all'ultima delle leggi con cui chiudo. Gli outsiders non fanno gli outsiders per moda. Non sono lì a giocare a fare gli outsiders. Per cui, se amate l'arte, dovete fare solo una cosa. Compratela. Investite in bello. Investite nel bello di tutti i giorni perché non c'è nulla di più inutile nell'arte. Gli outsiders non hanno voglia di morire. Non amano morire. Non vogliono essere dei martiri. Perché la vita è importante. E c'è solo una cosa importante oltre la vita. Che la morte ci trovi vivi. Come diceva Marcello Marchesi. Ciao.